Banca Valdichiana è impegnata il prossimo 3 di ottobre in un convegno dove si parla della nuova normativa antiriciclaggio e di come questa non dovrà assolutamente andare a cozzare con la tutela della privacy, quindi un argomento molto importante. Ma sì, alla luce delle nuove normative abbiamo pensato di organizzare un convegno dove affrontare questa nuova tematica. Infatti il convegno si svilupperà su una prima parte dove andremo a capire quella che è l'attuale normativa. Nella seconda parte affronteremo quello che è il rapporto fra la banca e il cliente e soprattutto la terza parte sarà quella aperta anche al dibattito con tutti i rappresentanti, con tutti i presenti perché abbiamo inviato all'ordine degli avvocati, all'ordine commercialista, agli inviti perché oltretutto il convegno sarà aperto anche ai crediti formativi e pertanto andremo a toccare le normative nuove e soprattutto la rimozione del segreto bancario e appunto la tutela della privacy. Argomenti molto delicati, molto difficili e pertanto fra tutti gli operatori, banca, clientela e operatori, capire bene quella che è la sfera che va a racchiudere questo nuovo impatto, impatto molto difficile e molto delicato. Ecco, in un momento così abbastanza, come ha detto lei, delicato dell'economia e del mercato, la vostra dimensione, quella dei crediti cooperativi, forse è quella che riesce meglio ad adeguarsi a tutti i cambiamenti e anche alle tante domande sulle quali nessuno si interrogava, invece adesso purtroppo bisogna confrontarsi con tanti aspetti. Per una banca piccola non è semplice rispettare tutta l'evoluzione normativa perché dal 2016 saremmo anche noi vigilati a livello europeo, pertanto diventa un impatto molto pesante anche da un punto di vista proprio di gestione delle cose e quant'altro. Però ecco, la reazione di una piccola banca forse, almeno per quanto riguarda noi, è stata molto pronta, molto attiva, anche perché ovviamente la vigilanza Banca d'Italia sugli argomenti ci tiene molto molto sotto pressione, però devo dire che l'evoluzione diventa quasi un cambio culturale importante. Pertanto scenari nuovi e proprio su questi scenari nuovi cerchiamo anche di interfacciarsi con quello che è la nostra controparte. Nel caso specifico della normativa antiriciclaggio vogliamo invitare, come ho già detto, tutti gli iscritti all'ordine degli avvocati, l'ordine dei commercialisti, tutti i nostri clienti e tutti coloro che comunque hanno impatto con questa normativa, che è una normativa molto pesante, che però se come tutte le cose si capisce bene dove ci porta la norma, riusciamo anche a stabilire un principio, un profilo di lavoro in linea con quelle che sono un po' le aspettative. Diamo l'appuntamento allora, abbiamo detto il 3 di ottobre? Il 3 di ottobre, dalle 8.30, un sabato mattina, pertanto la registrazione presso il centro affari, qui ad Arezzo e andremo avanti per tutta la mattinata e alle 13.30 Banca Valditiana, tutti i presidenti, offrirà anche un piccolo buffet con l'impegno che se la mattinata è interessante i nostri docenti sono a disposizione anche nel pomeriggio per eventualmente rispondere anche a domande acquisite ad approfondimenti. Pertanto vi aspettiamo tutti perché è una mattinata molto molto importante.